E si chiude con un podio per l'Italia alla prima giornata dei giochi olimpici invernali di Pechino 2022 ed arriva nello short track, in particolare nella staffetta mista con un'Arianna Fontane che conquista il suo nono podio in carriera alle Olimpiadi, ha conquistato una vittoria a Pyeongchang 2018 nei 500 metri individuali e in totale tra gare individuale e staffette ha conquistato 9 podi, un oro, 3 argenti e 5 bronzi. Veramente un monumento dello sport italiano, un monumento dello short track che è sostanzialmente pattinaggio di velocità su pista breve, pista da 111 metri. Una finale veramente bellissima, combattutissima, c'è qualche rimpianto perché siamo arrivati veramente avvicinissimi al photo finish con la Cina per la conquista della medaglia d'oro ma l'Italia partiva nella finale come terza o quarta potenza sulla carta per cui già aver conquistato questa medaglia d'argento è veramente un grandissimo. Risultato e va a fare il paio con un altro risultato fantastico, quello dell'argento di Francesca Lollobrigira nei 3.000 metri del pattinaggio di velocità. Ma partiamo dai turni precedenti, ai quarti l'Italia è sfortunatissima perché becca il girone di ferro con le due superpotenze asiatiche, i padroni di casa della Cina da una parte e anche i coreani, per cui veramente una sfida complicatissima. Però la Corea intorno a metà gara sbaglia un cambio, finisce molto larga, rischia addirittura di cadere, a quel punto l'Italia riesce a infilarsi, si porta alle spalle della Cina e riesce a qualificarsi tranquillamente in seconda posizione per le semifinali. Semifinale dove si incontra un'altra delle superpotenze mondiali, ovvero l'Olanda, che però intorno a inizio gara sbaglia, cade mentre era in testa senza alcun contatto, per cui un errore dell'olandese, che appunto finisce terra tra l'altro la più forte diciamo del quartetto, a quel punto restano davanti Canada-Italia con il Kazakistan molto più staccato, non si danno nemmeno tanta rogna i canadesi e gli italiani perché erano già sostanzialmente passati, per cui prima posizione per il Canada, seconda per l'Italia, entrambi accedono alla finale, dall'altra parte passano Cina e Ungheria, per cui Canada-Italia-Cina-Ungheria si sfidano nella finale, con l'Italia che parte appunto come terza e quarta potenza sulla carta. Però intorno a metà gara, tra l'altro partenza fantastica delle italiane con Martina Valcepina che ha veramente un grandissimo spunto in partenza e riesce subito a portarsi in testa, poi dal cambio a Arianna Fontana che riesce subito ad allungare. Però purtroppo con il primo uomo, Cassinelli, l'Italia viene nuovamente sorpassata da prima dalla Cina, poi anche da Canada e Ungheria e si ritrova dunque in ultima posizione, ma a questo punto arriva il colpo di scena perché il Canada tenta il sorpasso sull'Ungheria all'interno, però dando una spallata anche abbastanza forte, tant'è che poi alla fine verrà squalificato e finiscono entrambi a terra, fuori Canada, fuori Ungheria. Italia che rischia di essere travolta dall'ungherese, per cui deve anche un po' rallentare, ma riesce comunque a rimanere in gara. A quel punto però la Cina aveva preso veramente un grandissimo margine. Con l'Italiane riusciamo a recuperare qualcosa, ma poi la grande prova, la grande frazione la fa registrare Pietro Siegel, per cui di nuovo un uomo perché il format vedeva due donne, due uomini, due donne, due uomini alternati per un totale di 18 giri. Pietro Siegel che fa un ultimo giro veramente spettacolare, rimonta veramente tantissimi metri rispetto al cinese e si porta veramente un'incollatura. Cerca con il colpo di Reni alzando la gamba di superare il cinese, ma per pochissimi centimetri non ce la fa. Comunque è una gara fantastica per gli italiani, italiani che tra l'altro sono andati benissimo anche a livello individuale, perché le tre ragazze, Martina Arianna Valcepina e Arianna Fontana, sono passate nella gara di 500 metri e hanno passato le qualifiche. Stesso discorso anche per Pietro Siegel che passa nei 1000 metri maschili, mentre ha eliminato l'altro italiano. Purtroppo era passato, però per un contatto di gara che ha poi causato una caduta è stato squalificato. Per cui Italia che conquista dunque il suo secondo podio in queste Olimpiadi, un altro agente dopo quello di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del patinaggio di velocità con un'Arianna Fontana che appunto porta a casa la sua nona medaglia della carriera alle Olimpiadi e non è ancora finita perché arrivano adesso le gare individuali. Per cui un'ottima partenza per l'Italia in questa Olimpiade in due gare dove sì potenzialmente potevamo andare a podio, ma non eravamo diciamo i favoritissimi per salire appunto su un gradino del podio. Per cui veramente una grande gara, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, seguiremo assieme tutte le Olimpiadi, tutte le gare delle Olimpiadi di queste due settimane intensissime di gare in Cina. mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina, commentate e seguitici anche sulla nostra pagina Instagram e noi ci vediamo appunto a un prossimo video.